Sono tanti i tasselli che devono accompagnare la ricostruzione, Presidente sicuramente la legalità è uno di questi. Ma non c'è dubbio questo evento viene nel momento giusto, dopo gli approfondimenti necessari, ormai siamo addirittura d'arrivo sul piano della ricostruzione, attendiamo soltanto che l'autorità distretta dell'Apino Meridionale completi l'approvazione del suo piano stralcio che avverrà credo nel mese di maggio, quindi fine maggio, primi di giugno. La regione è pronta per l'adozione del piano di ricostruzione su cui avvieremo già una consultazione nelle prossime settimane. Ischia diventerà un laboratorio cantiere importante che dovrà naturalmente rispettare il paesaggio di questa straordinaria isola. Quindi è una sfida nuova, questa sfida nuova si fa con strumenti nuovi, questo programma richiede legalità che significa non solo evitare infiltrazioni malavitose ma anche garantire sicurezza per i lavoratori, le due cose spesso viaggiano insieme. L'adozione di questo piano rientra anche in quella famosa accelerazione che lei ha più volte auspicato e invocato. Sotto questo aspetto è un passaggio cruciale? Sì, come voi sapete qui vi è stata la sovrapposizione dell'evento luttuoso del 26 dicembre 2022 sulla precedente vicenda dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e quindi il piano è diventato un piano complessivo ricostruzione post sismo e messa in sicurezza post alluvione. Quindi è diventato un po' complicato il tutto tenendo conto delle caratteristiche particolari delicate e fragili di questa straordinaria isola. Ma finalmente adesso siamo in dirittura d'arrivo dopodiché la parola passerà ai cantieri e i cantieri dovranno parlare un linguaggio di legalità e di sicurezza.